E buonasera ragazzi bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui come avrete letto del titolo andremo a parlare un'altra volta del clan Per chi infatti non lo sapesse circa un anno fa abbiamo creato Excelsior appunto il nostro clan Inizialmente doveva essere semplicemente un luogo di ritrovo per giocare insieme in cui l'unica esigenza fosse avere gente con cui giocare Arrivati però a questo punto vogliamo cercare di fare un salto di qualità Ovvero quello di formare un clan che sia composto da gente capace, disponibile e soprattutto con cui si piacevole giocare Ovviamente l'obiettivo principale rimane sempre lo stesso quindi avere un gruppo di persone con cui appunto sia possibile giocare bene o male a tutte le ore e che siano appunto disponibili per fare attività insieme Con l'unica differenza che rispetto alla prima fondazione del clan i requisiti saranno più alti in modo da avere diciamo un gruppo di persone un po' più scelte Vi vado quindi a sintetizzare le regole del clan e quali sono i requisiti per entrare Diciamo che il nostro è un clan principalmente PvE anche se comunque giochiamo anche in PvP ogni tanto Però ovviamente ci concentriamo sull'attività PvE Per il semplice motivo che è l'unico tipo di attività per cui serve veramente trovare gente con cui appunto farla E cerchiamo quindi persone disposte a salire di luce velocemente all'aumento del cap e soprattutto disponibili per lo più la sera verso le 21 Per fare principalmente ride o comunque le ultime attività utili in PvE soprattutto se nuovi Il fine ultimo del clan quindi sarebbe quello di avere sempre un team pronto a completare il ride che esce appunto il prima possibile Quindi abbiamo bisogno di gente che sappia fare il ride non nel senso che conosca le meccaniche Ma nel senso che sia capace di fare il ride che sia disponibile ovviamente a farlo in questa faccia rare che vi abbiamo detto Ma soprattutto che si sappia relazionare con gli altri e quindi una persona con cui ci troviamo bene anche a giocare Se volete mandare la richiesta gli unici requisiti che dovrete soddisfare sono i seguenti Avere tutti i DLC che sono usciti quindi al momento essere in pari con quello appunto che ha fatto uscire Bungie Essere sopra la soft cup se si parla delle prime settimane appunto di uscita del gioco Quindi le prime due settimane dell'uscita del gioco essere appunto sopra la soft cup E ovviamente alzarsi costantemente durante la stagione Per dirvi il gruppo con cui al momento giochiamo generalmente a tre settimane, un mese circa dall'uscita di Shadowkeep È tutto intorno al 9.50 Poi ovviamente ci sono alcuni come per esempio Mei Raika che siamo più alti Siamo al 9.60 e stiamo appunto cercando di salire ancora oltre Per quanto riguarda l'approvazione come funzionerà? Una volta che avrete fatto la richiesta avrete contattati tramite PS Message da me o da Raika E concorderemo quindi una sorta di provvino all'interno del raid più recente In cui giocheremo prevalentemente con gente che fa già parte del clan e che quindi siamo già sicuri sia capace di giocare E con uno massimo tre membri nuovi Faremo quindi qualche step del raid per vedere come ve la cavate a livello ovviamente di skill E come riuscite a giocare anche insieme a noi Qual è diciamo il feeling che c'è tra di noi? Guarderemo anche il livello della skill in PvP che tuttavia non prevarrà su quello PvE Ma che comunque terremo conto Per dirvi se c'è un pro player in PvP simpaticissimo con cui ci troviamo benissimo Ma che non fa PvE o comunque non è capace a fare PvE Questo verrà automaticamente escluso Ovviamente c'è da considerare che se entrerete dovrete giocare attivamente Quindi rendervi disponibili come ho già detto per lo più la sera E giocare appunto insieme agli altri Diciamo che se qualcuno vuole proporre un raid o un'attività all'interno del gruppo del clan Che è un gruppo PS Message per ora Ci devono sempre essere persone sufficienti appunto per completare questa attività O comunque per mettersi appunto d'accordo e trovare un momento in cui si possa completare Detto questo concludiamo qui Il clan come ho già detto si chiama Excelsior TC Comunque lo trovate in descrizione Fate richiesta, venite in molti perché abbiamo veramente voglia di giocare con tanta gente E detto questo io direi che ci vediamo alla prossima Ciao! Ciao!